Padre Maker Manimba Mane, missionario dell'Ordine di Maria Immacolata, che per anni ha vissuto in Molise, ha lanciato un appello per consentire agli studenti congolesi di completare gli studi. Nel paese africano la povertà è opprimente e le risorse economiche familiari, laddove disponibili, servono per sfamarsi, non certo per studiare. Io sono molto contento di ritornare in Italia ogni tanto e così ho conosciuto anche il sindaco Giacomo Lombardi che ha voluto veramente partecipare a questo gesto di solidarietà per i nostri ragazzi del Congo. Perché io penso che nei paesi come i nostri, dove ci sono sempre crisi politiche, sociali e economiche, è importante dare una spinta all'istruzione, così i ragazzi potranno un giorno diventare più responsabili per costruire un altro paese. Io ho avuto una fortuna straordinaria perché dal Congo mi hanno mandato qua in Italia e ho studiato sempre qui in Italia. Mi sembra quasi otto anni di studi e ne sono uscito dottore in storia e posso dire che l'Italia mi ha dato molto e vorrei anche io, essendo là giù, dare una mano ai ragazzi sfortunati affinché possano diventare responsabili per costruire una nazione più solidale, più responsabile. Il sacerdote è rettore dell'Università Cattolica di Kinshasa. Rientrato in Italia per partecipare ad un convegno a Roma ha voluto incontrare Giacomo Lombardi, capo dell'amministrazione che per prima ha risposto all'appello del missionario. L'amministrazione comunale di Roccamandolfi in prossimità delle feste di Pasqua ha deciso di fare questo gesto di solidarietà in favore di padre Macaire che è un caro amico, una persona impegnata direttamente nelle problematiche del Congo e questo piccolo contributo donato con vero cuore da parte del comune di Roccamandolfi servirà per permettere a ragazzi del posto di studiare. Un gesto semplice ma fatto con affetto, soprattutto durante questo periodo, un periodo molto particolare, fatto di guerra, di pandemia crediamo che chi ha qualcosa in più debba fare qualcosa in più per gli altri e donarlo con amore e con piacere. Altri comuni possono anche darci una mano perché questa catena di solidarietà deve continuare. Io so che per il momento l'Europa è molto preoccupata dalla situazione che prevale in Ucraina ma l'Europa deve sapere che è un continente che è sempre stato solidale e quindi deve pensare anche alle altre nazioni che stanno in crisi come il Congo e quindi se altri comuni possono darci una mano veramente sarà un gesto di solidarietà importante.